Eccoci, siamo tornati in diretta, allora come abbiamo preannunciato prima della pubblicità abbiamo con noi un artista a 360 gradi perché lui è un attore, è uno scrittore, un pittore ed è con noi Vincenzo Bocciarelli Buongiorno, che bei colori, che bella presentazione ma soprattutto che bella sede lo vorrei dire di cuore, sono rimasto proprio abbagliato da questa sede è possibile, accettano degli studenti in ritardo? Non è mai troppo tardi per studiare Allora Vincenzo iniziamo proprio dagli albori, degli albori della tua carriera tu hai iniziato vincendo una borsa di studio al Teatro di Palmi Sì, mi sei informata Io sono informatissima, ho fatto i compiti, di solito è Simone, questa volta anch'io Quest'anno ti ho detto, occupatene tu Ecco, no, allora hai vinto questa borsa di studio e hai iniziato così, sei andato in Calabria per un anno Sì, senza dire nulla ai genitori, nessuno sapeva niente Già avevo iniziato a fare teatro a Siena, al Piccolo Teatro di Siena Voglio ricordarlo perché è giusto ricordare sempre tutto e chi ha creduto subito in me che fu questo regista Giuliano Lenzi Saluto, ringrazio perché mi segue, continua sempre a seguirmi Debuttai quindicenne nella Fedra di Seneca, nel ruolo di Polito a Siena Proprio il Piccolo Teatro di Siena, che è una bomboniera del Settecento Sì Che all'epoca era gestita dalla baronessa Margherita Sergardi E quindi già i miei erano abituati a vedermi rientrare tardi la sera a scuola Frequentavo intanto l'Istituto d'Arte Duccio di Buoninsegna Quindi il percorso pittorico, contestualmente quello teatrale E tu erano d'accordo con questa strada che hai cominciato a intraprendere? Sì e no Sai cosa? Il cinema, la televisione, il teatro ha sempre inseguito un po' la mia famiglia Perché all'inizio degli anni 90 arrivò la troupe del film Con gli occhi chiusi Che prese possesso dell'abitazione Bocciarelli per girare Ma davvero? Quindi avevamo la Stefania Sandrelli, Castellitto in casa, la Caprioglio Produzione dei Laurentiis mi sembra Comunque il mio fratello più piccolo fu ingaggiato per fare il protagonista da piccolo Perché tu hai tanti fratelli, vero? Sì, una famiglia numerosa Che ogni tanto si trovava coinvolta in qualche spot pubblicitario Una nota marca di birra Coinvolta mia madre che apriva le finestre di casa Il formaggio piuttosto che un'azienda automobilistica Insomma negli anni 90 eravamo un po' presi d'assalto Però torniamo a te, dopo il Teatro di Palmi sei entrato al Piccolo Teatro di Milano Al Piccolo Teatro di Milano ma dopo un anno è lasciato perché si è andato a lavorare E sono entrato al Piccolo Teatro di Milano perché era una selezione, lunga selezione Sì, hai fatto una lunga selezione E ma subito ti hanno messo a lavorare dal Piccolo Teatro? Subito sì, perché anche lì, come è successo nel Piccolo Teatro di Siena Un attore aveva lasciato la compagnia, un ex allievo E fui chiamato dal maestro a sostituire quell'attore E mi sono trovato a ricoprire diversi ruoli Nel Faust Festival che era uno spettacolo che durava sei ore Per la regia di Giorgio Streller Con dei mostri sacri come Tino Carraro, Andrea Iona, San Giulia Lazzarini Gianfranco Mauri, una cosa pazzesca Ed sembrava di stare in Star Wars del teatro Perché c'erano elefanti che si muovevano meccanicamente Dollari che scendevano dal soffitto Si apriva un palcoscenico e usciva una piscina Dove Faust si ritrovava Vedendo tutto questo teatro meccanico, chiamiamolo così Come era poi anticamente, nell'antica Grecia Nei teatri c'era tutto quel meccanismo C'era tutto questo e durava anche sei ore Esatto Anche giornate interi Però lì hai capito, forse è stato il momento della rivelazione Che quello era il tuo futuro Sì, quello era il teatro anche di livello Anche con una recitazione seria, concreta, sentita, professionale Gli anni 90 sono stati gli anni del teatro Hai cominciato a lavorare con il teatro di Siracusa In commedie e tragedie greche E dopodiché negli anni 2000 è arrivata la tv e il cinema Sì Sono stata brava? Sì, bravissima Beh, innanzitutto negli anni 90 A compagnia Glauco Mauri Che adesso so che fino a pochi giorni fa era al Teatro Argentina Che è stato un grandissimo maestro per me Che non finirò mai di ringraziare Anche se non ci siamo più Poi ci si perde un po' Certo, però hai tanti punti di riferimento Sì, tanti Però sai, la gratitudine è una cosa importante Io la porto nel cuore Che non tutti conoscono No, ma sicuramente è bello dire grazie No, ma sicuramente è bello dire grazie Se mi ridi dai tuoi occhi che sei una persona grata Delle cose che hai Sì E poi Rellir, Edgar, tre duelli in tre ore di spettacolo Ganci d'acciaio, bastone, spade Beh, complimenti Vincenzo Hai fatto dei bellissimi ruoli Soprattutto dei ruoli di repertorio importantissimi Però è come se fossimo sempre appunto di partenza con questo lavoro Adesso ho finito da poco Edipo Ultimi Atti Sì, dopo lo vediamo Ce lo possiamo anche vedere la locandina Letteralmente massacrata in scena Perché avevo un monologo di 40 minuti Tutta memoria ovviamente Domenica scorsa doppio spettacolo Infatti poi la voce Era terribile Però si dà tanto in questo lavoro Sangue, passione, visceralità E poi hai vinto anche il premio Istrio Negli anni 90 come miglior attore Il primo premio della mia carriera Il primo premio della riconoscimento nel 1993 Premiato da Vittorio Gasman Eh sì, lo sapevo, lo sapevo da Vittorio Gasman Insomma, nella tua vita Giorgio Strayler Vittorio Gasman Valeria Morricone Valeria Morricone Max Fonsido Sì Max Fonsido Con il quale ho fatto The Final Inquiry L'inchiesta Finché ha girato tutto il mondo Dove ero Caligola E tutte persone, devo dire Che mi hanno insegnato che Più si è grandi, si è umili Disponibili Penso che lui mi dava un sacco di consigli Max Fonsido Premio Oscar Ricordiamo Circa 300 film Non so quanti E lui per esempio Un consiglio che mi dette Fu quello di Non muovere troppo la bocca Durante le riprese Dei film internazionali Dice Così ti possono doppiare In più lingue in tutto il mondo Ah, giusto E quello è tutto Poi sai Chi viene poi dal teatro Si deve un attimo dimensionare Perché sappiamo Sì certo Ma poi sai Caligola Era anche un personaggio Molto espressivo Perché insomma Un po' psicopatico Un po' Dalle tinte Dai colori estremi Ti piacciono questi ruoli Un po' dark Tantissimo Tantissimo Infatti nel film Internazionale Di cui ho iniziato le riprese Professor Dinkan Interpreto un poliziotto Un ispettore di polizia Di Scotland Yard Cattivissimo Si scopre alla fine Che poi è lui Il cattivo della storia Tutti pensano che sia Di lipe Non ce lo dire Non ce lo dire Ma tanto Io mi auguro Che riusciamo a finirlo Perché è un film interrotto Se lo so Ce l'hai detto 3 milioni e 500 mila dollari Di budget È costato Sì Perché abbiamo girato Due mesi a Bangkok Tra 2018 e 2019 Poi dovevamo ritornare A terminare Le ultime riprese In India È mancato Sappiamo quello che è successo È mancato Perché poi tu hai avuto Nella tua carriera L'incontro con il cinema indiano Sì Però questo ce lo racconti dopo Lo sai perché? Sì Perché vista la tua carriera E tutti i tuoi incontri Con il teatro Con il cinema Con il cinema indiano E ricordiamo anche Che tu sei un bravissimo pittore Quest'anno Hai ricevuto Il premio Vincenzo Crocitti Ah bellissimo Come miglior attore Ah Vincenzo Crocitti Bravissimo attore Che purtroppo non c'è più È venuto a mancare E ogni anno Si dà un premio A un attore È arrivato inaspettato Ma devo ringraziare Tutte le ragazze Della mia fanpage Perché sono stato segnalato Da loro No Le mie vestali Perché te ne ho acceso il fuoco Del bocciorelli Del bocciorelli Fanpage Teresa che ringrazio Virginia Linda Insomma sono veramente Delle anime stupende Perché anche sai Noi abbiamo dei momenti In cui se non si sta in televisione Sembra che non esistiamo più Io ho fatto tanta televisione Negli anni 2000 3, 4, 5, 6, 7, 8 E poi vabbè Mi sono concentrato un po' Sul cinema Perché all'epoca C'era ancora questa divisione Tra teatro e cinema E cinema Ecco questa è una foto Ci tengo a dire Del grande Carlo Bellincampi Recentissimo Dopo ce la dici Ce la commenti Fotografo che ringrazio Ma prima 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 Andiamo a vederci Il premio Crocitti Tuffiamoci Vai Eccolo Benvenuto Complimenti Benvenuto Grande Vincenzo Insomma Un percorso importantissimo A 15enne Già Parlo io Intanto tu Vai Fai un po' di respirazione Sedimenta Sarai emozionato Tutti emozionati Solo io Non mi emoziono più Ma com'è Si è diventata proprio vecchia Insensibile No vabbè Mi scherzo La camuffo bene Comunque Vincenzo A 15 anni Già faceva teatro Ha avuto un percorso Importantissimo Con Streller Niente di meno E poi Insomma Anche tu Hai trovato Tante Tante Magnifiche strade Che stai percorrendo Con Grande Successo Quindi complimenti E ti affido Il microfono Grazie Complimenti Grazie a tutto Il vostro calore Grazie La sensazione che ho Se mi trovassi In una storia L'attesa è stata emozionante Poi mi sono venuti Tantissimi pensieri L'incontro Che feci Tanti anni fa Questo scambio Di sguardo Con Vincenzo Che saluto E ora ho capito Quell'espressione Che mi fece Perché dovete sapere Sicuramente lo sapete Molti attori Molti artisti Hanno una sensitività No? Chi di più Chi di meno E in quell'espressione Che mi fece Una volta lo incontrai Ad un evento Perché era l'epoca Il boom In Dele Fiction Lui era Appunto In Carabinieri Ero in Orgoglio E quindi ci incrociammo E mi ricordo La sua espressione Quel sorriso Mi guarda come per dire Che vuol dire questo? Poi ora l'ho capito Il cerchio si è chiuso Si chiude Per poi ripartire alla grande Come per dire Un giorno riceverai il mio premio Vincenzo Crocitti Grande Quindi ecco La frase che mi viene in mente Solo l'amore resta Che è una frase Che tutti noi conosciamo Perché alla fine Nel caos generale In cui viviamo Soprattutto oggigiorno Io ho iniziato In un'epoca In cui tutto era Completamente diverso Insomma Gli inizi degli anni 90 Il debutto con Streller I grandi Che ricordo Mi Glauco Mauri Albertazzi Irene Papas Erlitzka Max Fonsido Che avete visto I grandi attori Che ho avuto Veramente i grandi maestri Che mi hanno riempito E arricchito Continuamente Questo caos Generale In cui ci troviamo Ecco questo premio Mi dà la sensazione Come se tutto venisse Finalmente Un po' messo in ordine Perché Che il tourbillon In cui ci troviamo Egoico In dove Tutti vogliono apparire Tutti si sentono Attori Sui social Instagram Fanno le scene Fanno le cose Quando noi abbiamo iniziato Proprio In maniera artigianale A cucire La professione Dell'attore Con la scuola Con il lavoro Con la fatica Con il sangue Quindi ecco Dedico Innanzitutto A tutti i miei maestri Meravigliosi Che ho avuto A chi non c'è più Ai miei genitori E a Vincenzo Crocitti A quel sorriso E quell'espressione Che oggi ho capito Che lui sentiva Questo momento L'aveva già visto Grazie 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 per le belle parole Premia Come testimonial Invitiamo L'attrice Francesca Della Ragione Che mi auguro ci sia Vedo Vediamo che si muove Questa sera è l'occasione Per conoscere Anche un sacco Conoscerci Tra di noi Si creano delle belle Sinergie Poi Ecco Benvenuta Francesca Affido un microfono Anche a Francesca Benvenuta Buonasera a tutti Ringrazio Francesco Sono contenta di essere qui Ho vinto il premio Sono io con le date Sono due anni fa Credo Sì Due anni fa Quindi Ho la possibilità Anche di ringraziarlo Di persona Perché ero tra I premiati Di questi purtroppo anni Di Di covid Quindi l'abbiamo fatto Tutto in streaming Devo Devo dire una cosa Che Francesco il premio Il premio Vincenzo Crocitti Porta fortuna E Sì Eccolo Abbiamo visto la premiazione Ringraziamo Francesco Fiumarella Che è il direttore artistico E Mente pulsante Del premio Vincenzo Crocitti È stato davvero un riconoscimento Che ho Meritatissimo Amato particolarmente Meritatissimo Dicevamo con Anna Maria Che tu hai fatto Hai partecipato a delle serie Che sono rimaste un po' Nell'immaginario Tutti noi Ce ne ricordiamo tutti benissimo Orgoglio e il bello delle donne Due per citarne Sono stati dei veri e propri tv cult Come si dice Sì Erano ben recitate C'erano dei grandi attori Le storie erano pensate e scritte In maniera incisiva E questo per dire Che la qualità E un certo tipo di capacità Anche di entrare Nell'immaginario collettivo E nella mente delle persone È importante Proprio per lasciare anche un segno E ad oggi ancora le persone Appunto ho incontrato Elena Sofia Ricci Alla prima di Sì guardiamo la foto con Elena Sofia Ricci Che era all'inizio Lei è una figura Un'attrice straordinaria Sì sa Anche da un punto di vista umano Che io amo particolarmente Perché ci ha portato un po' A tutti fortuna Con la serie d'orgoglio Perché lei è un'interprete fortunata Perché emana un'energia positiva Perché anche un calore umano È una bella cosa È importante Quindi questo contagia tutti Anche sui set e in teatro Mi farebbe piacere di nuovo Tornare a lavorare con lei E te lo auguriamo Noi te lo auguriamo ovviamente E invece il tuo contatto Col cinema indiano? Beh il cinema indiano Avvenne nel 2010 Ah beh sono già tanti anni In maniera fortuita Fui scelto dalla produzione Per interpretare Il protagonista Lorenzo In Nera Caccia Titolo originale La strada dei colori Che poi è andato in onda Anche in Rai In versione doppiato In lingua italiana È possibile vederlo Sul mio canale YouTube Qualora ci fosse qualcuno Interessato a vederlo Basta mettere La strada dei colori E Vincenzo Bocciarelli E poi Sono stato richiamato Qualche anno fa Appunto Per il professor Dinkan Spero di tornare A ultimare le riprese Certo Ci hai portato un libro Eccolo qua Su Le ali dell'arte Su Le ali dell'arte Per concludere Sì L'esperienza di Bocciarelli Home Theater Per esistere ad una pandemia Esatto Tu mi hai raccontato Al telefono Vincenzo Che è un libro Con Fatto con il cuore Sì Semplice Perché? È il frutto Anche della mia esperienza Umana Artistica Spirituale Proprio tornando Al discorso Della semplicità Che essere semplici Diretti Non vuol dire Essere semplicistici O superficiali O banali Ma i grandi maestri Le grandi figure Che ho avuto modo Di incontrare Sia studiando Leggendo Ma sia anche Le figure che ho conosciuto Di maestri E maestre Mi hanno insegnato Che le cose Fatte con il cuore Le cose semplici Offerte No? In maniera così Limpida Certo Sono molto Efficaci Per arrivare Soprattutto In un momento Come abbiamo vissuto No? Molto È molto importante Molto Riflessivo Anche Sì A livello introspettivo Certo Questo è un libro Che è nato Durante la pandemia Questo nasce Durante proprio In maniera così Anche come tutte le cose Belle E incredibili In maniera inaspettata Perché io stavo Trasmettendo Il bocciarello Con un teatro Da casa Dal 10 marzo Del 2020 E il 10 marzo 2023 Tre anni di distanza Presenterò finalmente Il libro a Roma Che avrei dovuto presentare Il 22 ottobre del 2021 Poi iniziò La seconda La seconda La seconda La seconda Tutto chiuso E quindi Il 10 marzo Inizia a trasmettere Questo appuntamento Quotidiano virtuale Su Facebook Dove passavo Da Trilussa A Chekhov A Sofocle A Euripide O Tennis Williams Insomma E recitando Intrattenevo il pubblico Gli amici Cercavo di dare Un supporto Insegni anche Tutto questo? Sì 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 Faccio da anni Insomma Lezioni private Ho dei ragazzi Che così coltivo Come fratello maggiore Come fratello maggiore Dalla pittura Al palcoscenico E al set E queste cose Le racconto appunto Nel libro Perché un editore Che ringrazio Giuseppe De Nicola Dill Edizione 20 Accademia edizione 20 Dice perché Non racconti tutto questo In un libro E all'inizio ho detto No assolutamente Ci manca Sai nel paese Dove tutti vogliono cantare Recitare Scrivere Ci manca solo Che Boccerelli Si metta a scrivere il libro Però mi ha convinto Perché Mi ha detto Può essere uno spunto Di riflessione Di approfondimento Soprattutto per i giovani E allora ho detto Ma sì Cerco di trasferire Tutta la mia esperienza Di emozioni Di esperienza umana Il primo mese Di lockdown Che abbiamo vissuto tutti Come Cioè in maniera proficua Cioè come Rispondere a qualche cosa Di negativo Invece in maniera Positiva Di incente Sì di trasformazione Anche di cambiamento Perché Credo che sia stato Anche quello Poi sai I momenti bui Non è che sono legati Solo Alla pandemia Cioè tutti noi Ne parlavamo proprio prima Una memoria Dei ricordi Che ogni tanto Riaffiorano Quei buchi neri Che possono nascere Dalle vari momenti Di depressione L'abbandono La perdita Di persone care E quindi l'arte Ergo Fede Per chi ci crede Certo Certo Di religione del mondo Però ecco Questo significa Che poi L'arte Diventa L'anti L'anti buio L'anti nero Grazie Vincenzo A voi Grazie Sono stato benissimo Torno a trovarci Assolutamente Sulle ali dell'arte Certo Sulle ali dell'amore Grazie Vincenzo 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 Grazie a tutti.